Come coordinamento donne volevo ricordarvi della Calabria che quest'anno in accordo con il coordinamento nazionale abbiamo pubblicato sul sito dell'SLP CISL Calabria un manuale dedicato alla violenza contro le donne quindi un manuale che può essere utile a tutti quanti per capire che cos'è questo fenomeno, cercare di trovare quelli che possono essere gli strumenti più adeguati e anche numeri utili che possono esserci con particolare riferimento alla Regione Calabria quindi per ogni provincia. A questo proposto volevo ringraziare tutte le colleghe anche alle coordinatrici che ci hanno aiutato in questo lavoro e in particolare alla coordinatrice di Catanzaro l'area Flegale che ha dato un grande sostegno a tutte quante. Forse è un tema un po' già dibattuto molto all'interno di tutti i social dovunque però non è mai abbastanza vorrei ricordare che proprio l'8 marzo qui in Calabria a Ciro Marina è stata uccisa una donna e quindi proprio di pochi giorni fa a cui ci uniamo appunto a Modoglio per ricordare che è un argomento molto trattato ma purtroppo è bene che si continui a parlare. Grazie Grazie